Siamo qua E Rupino si sta a mangiare la pizza La tortura cinese Noi siamo qua a sudare Nel tentativo di... La signorina odiosa E' strano che non mi ha portato via il piano Vero, che fanno? Tu mentre mangi? E poi dopo dice... Tempo di mangiare, finisci il piattino Ciao ragazzi, sono Cristina e sto facendo questo vlog Da Salerno E stiamo qui al giapponese Stiamo qui già Alloyukenit E niente Sono nella camera d'hotel Stavolta è gigantissimo Nel bagno c'è la vasca Che questa sera ovviamente verrà riempita Vabbè, il resto del bagno è sempre quello E stasera mi porterò via tutte cose Anzi mi devo cambiare La stanza è questa Specchio Specchio delle mie babame Valigia E questa volta ho tre letti Mi ci sono già buttata qui E ovviamente dormirò sulla parte matrimoniale Al centro, bella spaparanzata Tipo che si accede ogni due secondi Ma... Si Samara, non ti temo E questa volta ho la vista mare Guardate Guardate che meraviglia È un po' nuvoloso oggi eh Però... Si Ok Mentre David sicuramente nella sua stanza Se la sta dormendo Io mi restauro Quindi ci vediamo tra un secondo Ok, sono pronta Questo è il mio look Sono messita in questo modo Semplice alla fine Non so se tenere il... Si chiama il septum oppure no Però... Mo' vedo Come mi sento io C'è un casino incredibile Ma... Noi donne lo sappiamo Cioè quando ci prepariamo Caos C'è un po' di vento Ottima scelta Di mettersi qua Sì Infatti i miei capelli stanno Però li ha al coperto no? Si Ti disparte al coperto Vabbè non è che c'è il tornado però C'è un po' di vento E lui Ma non è una grande Ma non è una grande Si sei blu Ti hai falla Anche a Sanerno Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Grazie Le saluto ai dozzi! Per conoscerci un po' meglio avevo in mente di farvi delle domande ok? chissà per conoscerci un po' meglio io nel... ok io nel 2013 penso che nel 2014 non mi sono dovuto fare un po' meglio allora cosa dovrebbe fare un ragazzo per colpire? mi dovrebbe chiaro cosa ti faccio mi dovrebbe essere un ragazzo per colpire 3, 2, 1 con lo sfondo del mare vi dico che l'evento è finito io mi sono presa tutti i miei bei cartelloni tutti i vostri regali peluche, cose... oddio ho caduto tutto bene tutte cose tutte le vostre cose che mi avete portato eravate tantissime è stato un evento molto veloce però sono stata contenta guardate! ciao! poi io bene un secondo me sei cattivo? si basta ora commenti ora commenti ma chi è Anthony? no ma chi è Francesco? ma chi è questo Francesco? Francesco ah sarebbe Anthony di Francesco ma lo chiamano o Antonio o Francesco venite! oddio no! gente se ne va arrivederci è tardissimo perchè io ho fame guarda proprio che è tardissimo non era finito il vlog perchè siamo rimasti qui a mangiare la pizza piccola è arrivata la cena la seconda cena pure io la voglio una fetta però non è potente quando mangia dopo la storia che ha fatto che non ci crederà mai nessuno ma io sì ve lo dico io non è fake non mi ha pagato e non mi ha detto niente anzi c'è un vocale dove mi diceva sto male poi faceva la pausa? sto proprio male sto male veramente lo volevi veramente ho finito di fare colazione e mi sono dovuta cambiare al volo perchè tra poco c'è il check out comunque io amo questo hotel non sto facendo pubblicità eh mi sono fregata tra l'altro tutti i campiongini dell'hotel perchè possono comunque essere sempre utili in viaggio non si sa mai approfitto dello schermo mega lo schermo perchè specchio mega enorme per parlarvi da qua e niente adesso appunto finisco di farmi la valigia quindi ci vediamo giù con David venite tutti quanti all'evento a Roma quest'altro mese ma che è una pubblicità io ero a dietro ma ho preso la lasagna è colpa mia buon appetito va dietro